Vi presento un prodotto molto interessante, si chiama BQ Aquaris X. L'oggetto che vedete nelle mie mani è un prodotto di produzione spagnola e BQ secondo me è un'azienda molto interessante. Si occupa oltre che di smartphone anche di robotica, robotica utilizzata soprattutto a fini educational, una divisione dedicata anche alle stampanti 3D, ma sugli smartphone secondo me riesce sempre a produrre dei prodotti interessanti, a realizzare dei prodotti interessanti. Vi faccio vedere da vicino questo che è appunto il nuovo Aquaris X, viene venduto a 299€, è vero ci sono prodotti con le caratteristiche che sto per raccontarvi che probabilmente sono meno costosi, ma io trovo che questo oggetto abbia una cura nella realizzazione che secondo me è molto molto interessante. Allora, vediamo un po' l'aspetto. Un display da 5,2 pollici Full HD, questo lato molto pulito con il solo cassetto per SIM e microSD, la parte superiore con l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, l'altro lato con il volume rocker, quindi il bilanciere del volume, il pulsante di accensione, sulla parte inferiore invece altoparlante, attacco USB Type-C e il microfono. Sulla parte posteriore il sensore per le impronte digitali e la fotocamera con il flash ha due toni. Anche la fotocamera anteriore, come è facile vedere in questa posizione, ha il flash, che è insomma una particolarità per quanto riguarda questo telefono. Altro elemento secondo me importante di questo smartphone è il fatto che sia dotato di Android 7.1.1. Adesso finalmente i produttori cominciano a riportare il nuovo, la nuova versione di Android dentro gli smartphone, perché fino a pochissimi giorni fa eravamo ancora tutti essenzialmente con Android 6.0 a bordo. Era ora di fare un cambio in questa direzione. Aquaris X di BQ ha una caratteristica tecnica tutto sommato interessante. Al suo interno c'è uno Snapdragon 626, un Octa-Core che ha un clock che arriva fino a 2,2 GB, 3 GB di RAM e ci sono 32 GB di memoria interna che, come abbiamo visto, si possono espandere attraverso la microSD. La fotocamera è da 12 megapixel, riesce a catturare video anche fino a 4K. Vi mostro tra l'altro la fotocamera con un funzionamento tutto sommato semplice. Vedete qui c'è la modalità di gestione, con la modalità manuale oppure con le scene tra cui potete scegliere. Adesso ve le rimostro le scene che tornano a essere visibili, sì ce la faremo a rivedere le scene, lo facciamo adesso. Le scene vedete con paesaggio e adesso vedete spariscono. Questo è uno dei pochi bug che io ho trovato nel telefono in cui ho fatto fatica ad utilizzarlo. Però insomma essenzialmente dovete essere molto veloci nel gestire le scene. Quando avrete deciso quale utilizzare potete scattare la vostra fotografia. Oppure la possibilità di scegliere per la modalità video, per la modalità motions. Vedete in questo momento con il time lapse o con lo slow motion. E poi ancora l'ultima modalità invece è quella panoramica. Essenzialmente il gioco è sempre che quando attivate la fotocamera poi qui avete le opzioni supplementari che vi vengono proposte e qui eventualmente la possibilità di andare a vedere le foto che avete scattato. Se volete far sparire il menu delle opzioni vedete basta essenzialmente toccare questa parte del display. Come funziona il telefono? Bene perché ad esempio vi mostro la velocità con cui viene sbloccato che comunque è abbastanza immediata. Mi piace molto anche il fatto che il telefono abbia il launcher tipico ad esempio dei Nexus, quello di Android 7.1 o 7.0 comunque di Android 7 in generale. Vedete con uno swipe dal basso andate alle applicazioni. Il software di questo telefono è rigorosamente stock. Vedete non ci sono grandi aggiunte. Tra l'altro essendo quella di Aquaris una scelta di solito quella di una personalizzazione davvero minimale. Vedete non c'è molto anche per quanto riguarda le personalizzazioni d'uso del telefono. Gli unici gesti che potete fare sono quelli di aprire la fotocamera premendo due volte il tasto di accensione. Vedete da qualsiasi schermata come questa ad esempio io premo due volte e vedete viene attivata la fotocamera oppure avete la possibilità di alzare il telefono per controllare le notifiche. Per il resto funzionamento molto molto semplice. L'unica cosa che vi segnalo ad esempio è l'accensione e lo spegnimento pianificato che non sono soliti di solito essere sui prodotti con Snapdragon perché questa è una delle caratteristiche tipiche di Mediatek. E a livello di funzionalità e di velocità il telefono come si comporta? Vi faccio vedere immediatamente ad esempio riapro la fotocamera da zero vedete tutto sommato una buona reattività non elevatissima ma comunque buona e anche il browser avete visto si apre molto velocemente. Andiamo a sentire l'audio se riusciamo ad accendere velocemente lo streaming magari abbandoniamo la rete wifi per accelerare da questo punto di vista e avere una maggiore velocità di caricamento. Allora andiamo al player ufficiale dobbiamo girare adesso un piccolo trick che altrimenti ci farebbe aspettare un po' per ascoltare l'audio lo facciamo immediatamente andando sulla musica di One Dance che andiamo a pescare spero più velocemente di quello che è capitato nelle ultime recensioni quando abbiamo sempre fatto un po' di fatica a gestire l'ascolto di audio. Ecco vedete il suono viene tutto dalla parte inferiore ha un'ottima definizione delle frequenze medio alte un buon volume anche generale l'unica cosa che non è definitissima è la presenza dei bassi ecco lo sentiamo con questa canzone in particolare sentiamo che insomma la definizione dei bassi non è elevatissima. batteria batteria da 3100 mAh direi buona io sono arrivato un po' più di 4 ore di schermo acceso so che per molti di voi insomma è un risultato non esagerato però io mi chiedo che cosa ci fate con questi telefoni se fate più di 4 ore di schermo acceso durante una giornata secondo me è un buon risultato per la combinazione tra dimensione del telefono peso del telefono capacità della batteria dimensione del display e resa anche del processore. Ci sono molti prodotti ad una cifra inferiore che trovate sul mercato probabilmente dal grande diciamo patrimonio se vogliamo chiamarlo così o portfoglio che arriva dalla Cina. io trovo che però qui ci sia molta personalità personalità nel design personalità nei materiali una soluzione secondo me dal punto di vista proprio della costruzione della cura del dettaglio che va premiata tanto più che parliamo di un'azienda europea. per me è uno dei migliori acquisti che si possano fare in questo momento nella soglia insomma tra i 200 e i 300 euro vi ricordo che questo si trova a 299 euro BQ Aquaris X